Dove andranno a finire i palloncini, quando sfuggono di mano ai bambini? Dove andranno? Dove andranno? Vanno a spasso nell'azzurrità. E' felice di salire il palloncino, perché sa che in fondo il cielo è il suo destino. Piange il bimbo con l'osino in su, mentre già non lo vede più.